Come è la partecipazione di ricostruzione? Sappiamo che il processo di ricostruzione delle zone colpite del terremoto è stato avviato. Per noi quindi è fondamentale ed è importante. A riguardo già abbiamo avviato anche un percorso di lavoro con la struttura commissariale di Errani proprio per individuare le modalità e i termini della partecipazione delle popolazioni, convinti che partecipare, come diceva il professor Stefano Rodotà, è il diritto dei diritti, è il diritto ad avere diritti.